Musica Avevano manomesso l'apparecchiatura di lettura elettronica del locale commerciale per evitare che i consumi di energia elettrica fossero regolarmente registrati e quanto scoperto dagli agenti del commissariato Repubblica Sicurezza di Ostuni durante una ispezione amministrativa presso un bar presente all'interno della frazione di Villanova e non solo allargando il controllo anche presso l'abitazione di Ostuni di proprietà del padre della titolare del bar sono state accertate altre anomalie riguardanti le curve di consumo fatte registrare dal contatore dell'abitazione I manetti in fragranza di reato sono finiti padre e figlia identificati tramite le iniziali in RB 59 anni l'uomo ed SB 24 anni la figlia accusati di furto pluriaggravato di energia elettrica I poliziotti della città bianca una volta nel bar avevano infatti notato che la mascherina anteriore del contatore Enel era stata allentata per poter intervenire al suo interno Sul posto è stato richiesto l'intervento del personale tecnico che ha proceduto ad analizzare lo stato dei luoghi e la constatazione che il titolare del bar mediante il danneggiamento delle viti di fissaggio del contatore aveva manomesso l'apparecchiatura di lettura elettronica Al momento dell'accertamento erano funzionanti numerosi macchinari tra cui diversi frigoriferi, condizionatori d'aria e macchine per la produzione di gelati per un danno stimato in termini di furto di corrente negli ultimi tre anni di circa 15.000 euro Anche presso l'abitazione al momento del controllo della polizia e dei tecnici dell'Enel erano tutti perfettamente funzionanti di elettrodomestici dell'abitazione In questo caso, sempre negli ultimi tre anni, la somma è legalmente percepita si aggira intorno ai 5.000 euro Come disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di turno presso la procura di Brindisi, Pierpaolo Montinaro, SB veniva ristretta presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari mentre il padre, RB, veniva arrestato e successivamente rimesso in libertà